C'è Marilu Lucrezio che ci aggiorna. Sì, esattamente, sarà uno dei temi principali, quello dei migranti, nel Consiglio europeo del 23-24 marzo, qui a Bruxelles. E proprio in occasione di questo Consiglio europeo, la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha inviato una lettera ai leader dei 27 Paesi dell'Unione, in cui parla di vari temi, ma si sofferma soprattutto sul tema dei migranti. E ricorda il terribile naufragio al largo della Calabria, scrive, che è stato un richiamo ad agire insieme, con urgenza, con un approccio europeo. E parla appunto di una sfida europea, di un approccio europeo. E sono vari temi di cui scrive Ursula von der Leyen. Sono temi che si vede praticamente una chiarissima apertura a quelle che sono le richieste del Governo italiano. Per esempio c'è il rafforzamento dei confini esterni, i rimpatri più veloci, un controllo delle frontiere anche con sistemi tecnologici, la lotta ai trafficanti di esseri umani, assicurare un'effettiva solidarietà, lavorare con i Paesi partner per gestire insieme il flusso migratorio e un intervento più esteso di Frontex e, come dicevamo, intervenire soprattutto con dei controlli per i confini esterni dell'Europa. Aumentano anche i fondi. Ci sono 200 milioni di euro in più per l'accoglienza, per situazioni più gravi, come per esempio accogliere i minori non accompagnati. e quindi tutto questo deve essere praticamente necessario, scrive Ursula von der Leyen, arrivare a un punto di accordo entro la fine della legislatura.